L'artista veligno Gian Nicolangelo di ritorno dalla biennale di Soncino a Marco, rassegna d'arte contemporanea che ha visto la selezione di numerosi artisti di livello internazionale, torna in patria per partecipare alla prestigiosa rassegna del premio nazionale Sulmona. Un bel traguardo perché ho esposto in tanti posti, però ritornare qui in patria a Sulmona e esporre al premio Sulmona che è una prestigiosa occasione fa sempre piacere. La mostra, che sederà presso il Polo Museale di Santa Chiara, è riservata a un numero limitato di artisti italiani e stranieri, tra i più rappresentativi delle attuali ricerche d'immagine e prevede una selezione con partecipazione ed invito esclusivo. L'artista Mad è stato selezionato con la sua opera dal titolo L'Ultima Scena, una scultura cinetica che rappresenta un uomo nell'atto di consumare suo ultimo pasto in quanto condannato e con un titolo che è un evidente richiamo all'Ultima Scena di Cristo. L'opera, realizzata attraverso l'assemblaggio di metallo riciclato e componenti elettromeccaniche, interagisce con il fruitore muovendosi a suo passaggio di fronte all'opera attraverso un sensore di movimento. La scultura vantaggia diverse selezioni. Ho cominciato sperimentando vari materiali, dal legno, la pietra, la plastica, le ossa e il ferro riciclato. Il ferro riciclato e le ossa sono gli ultimi due materiali che uso tutti i giorni. Il ferro proviene dalle nostre terre perché è il frutto dell'usura degli attrezzi dei nostri avi, dei contadini e dei pastori. L'Abruzzo è la terra di queste arti e quindi portando in giro questi manufatti, in realtà io dico che queste opere sono fatte a più mani. Io sono l'ultima persona che ha lavorato quel ferro, ma insieme a me hanno lavorato queste persone. Qualche sogno nel cassetto? Andare avanti su questa strada. A Gian Nicolangelo il nostro personale in bocca al lupo.